Il suono 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 che sono trascorsi dalla sua presenza fisica in mezzo a noi, però è sempre presente non solo nel ricordo, ma noi che abbiamo, grazie a Dio, questa fede in Lui, ecco, vogliamo anche, voglio in questo momento condividere la fede con Lui. Perché ricordo, ecco, come primo ricordo questo impatto con questa persona di fede, un innamorato di Dio, veramente, senza esagerare, pacato. Quando andavo a casa sua, trovavo quell'ambiente proprio che appunto parlava del Signore. Quindi Franco è presente in mezzo a noi, certo, ed è questa condivisione con Lui, quindi io non vorrei, ricordando Franco, non vorrei sciupare proprio questa sua tenerezza di fede proprio, no? Questa sua delicatezza di fede. Io ho conosciuto Franco nel 1951 perché dirigevo a Maione un gruppo di, c'era un campo estivo, lo avevamo di aspiranti, ragazzi c'era di 10-14 anni, e Lui venne insieme col gruppo di Santa Teresa. Mi fece impressione però semplicemente perché era il tipo calmo, io piuttosto vulcanico, per un tipo calmo mi faceva impressione. Era, diciamo, la padronanza che Lui aveva di sé. La padronanza e quindi anche la capacità di controllare quello che gli succedeva intorno. E poi ho seguito il corso della malattia perché ho saputo che era malato e Don Augusto mi diceva, no, no, ma abbiamo speranza, abbiamo speranza, ce la farà perché è una malattia strana la sua. Cioè i sindomi, diciamo, più che i sindomi, i segnali che ci sono, eccetera, eccetera, non sono proprio classiche quelle della malattia di quel tipo. E invece purtroppo, diciamo, finì questo un po'. Per cui per me Franco rimane sempre, diciamo, un amico, più un po' politico che poi non me ne sono interessato più di politica. Io vorrei dire una parola proprio al gruppo che avevamo creato in diocesi, che era un gruppo molto motivato. E c'era davvero una fede profonda che avevamo e sapevamo trasmetterla anche agli altri. Anche perché allora l'azione cattolica era diffusissima in tutte le parrocchie, in tutti i paesi, dovunque. Quindi ci spostavamo spesso nei paesi a parlare con i ragazzi, con i giovani. Poi dopo incontravamo queste persone in Sila, nei campi scuola. Io ho diretto per dieci anni i campi scuola di azione cattolica dei ragazzi. Ed è stata veramente un'esperienza molto bella. Tant'è vero che anche oggi sono in rapporto e in contatto con alcuni che hanno vissuto quell'esperienza. Ormai sono tantissimi anni, sono passati dei decenni. In questo gruppo, ovviamente, emergeva Franco perché a un certo punto è diventato presidente di oggi stanno dell'azione cattolica. Franco era una persona seria, una persona equilibrata. Io ho visto sempre una persona matura. Quando interveniva, quando parlava, quando ci sollecitava, lo faceva con grande entusiasmo e grande equilibrio. Io vorrei ricordare di Franco qualche episodio, anche per andare sul leggero. Ne vorrei raccontare uno. Quando siamo stati ad Assisi, alla Procevitate Cristiana. Ricordo poi siamo andati in giro per le cittadine vicine. E siamo andati a Gubbio. A Gubbio, nel Palazzo dei Consoli, c'è una grande sala avvolta, che io leggevo sulla guida la più grande del mondo. Non c'è al mondo una volta unica, senza sostegni dalla base. E poi c'è una scaletta alta, 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 sali, sali, sali. C'era un sedile di marmo. Allora Franco, ricordo che si è seduto lì e ha detto io amo il potere, io vorrei essere un console, io sono un console. Allora si è alzato, si è messo ad arrencare la folla che non esisteva. Per dire, aveva anche questi momenti di spirito, di amicizia, d'allegria. Per esempio, quando cantavamo, quando raccontavamo tante cose. Lui non era il tipo soltanto che si impegnava sul piano ufficiale delle cose da dire e delle cose in cui credeva. Ma anche in questo aspetto molto giocoso della vita. Beh, dire di Franco è un'emozione che io provo in questo momento, come tutti gli altri, un caro amico, un ottimo dirigente di Azione Cattolica, una persona seria e impegnata. E con lui vorrei ricordare. Un ottimo ricordo di Franco Locanda. Io sono stato eletto sindaco di Paterno, nel mio paese, nel 1964. Mi ero laureato da poco in medicina, facevo il medico. E in effetti, diciamo, per questa immagine che si era creata, diciamo, tra i miei compaesani, mi vollero come sindaco. A Franco l'ho conosciuto nel 1970. Frango era candidato nel collegio di Cosenza II, che comprendeva la parte vecchia della città, Piazza Riforma, tanto per dire, che poi collegata, diciamo, con Di Pignano e Paterno. E allora io dissi a Franco che se mi dava una mano per portare a termine quella strada, io non avevo nulla in contrario, pur essendo iscritto a un partito, non avevo nulla in contrario di, diciamo, di aiutarlo, diciamo, per essere eletto. Perché avevo visto in lui una persona che poteva dare, diciamo, molto alle popolazioni amministrate. Ma anche perché mi accorsi che lui non era un politicante, ma era un pianificatore del territorio. Io credo che è difficile scindere la qualità dell'uomo rispetto alla qualità della politica. Franco era un uomo buono. Anche fisicamente dava l'impressione di essere un gigante buono. Io lo ricordo così. Ne ho un ricordo, chiaramente, sul piano politico, dirò qualche cosa anche rispetto alla sua capacità di soluzione, di problemi specifici, in questo caso del mio territorio, del paese mio d'origine, di Campana. Ma ne ho un ricordo anche di natura familiare. Io ho conosciuto Franco attraverso la cugina che diventò moglie di mio cognato. E quindi è una conoscenza che affonda nel tempo, quindi nella metà degli anni 60, 65, 66, quando mi imbattei in questa persona che incuteva rispetto, pacato, sempre, ragionatore, attento, è capace di farsi carico dei problemi che gli venivano prospettati. Con una capacità anche di soluzione dei problemi per i quali veniva ad essere investito. Ricordo un suo comizio quando ero già sindaco a Campana. non era solito andare al di là di quello che era il suo territorio o, diciamo, di pertinenza. Lui era amministratore legato a questa parte del territorio della provincia di Cosenza. Campana è la periferia, è l'altro mondo. Quindi, sollecitato a venire il 1972, in occasione delle elezioni politiche, venne e parlò in una piazza, Piazza Santa Croce, che è una piazza difficile di Campana. Parlammo assieme. Io ero il sindaco in rapporto anche di grande empatia con la popolazione in quel particolare momento e feci un intervento, come al solito, quindi abbastanza forte. Franco chiudeva la serata e parlò col suo modo pacato. Io avevo avuto l'impressione di aver trascinato all'entusiasmo i miei elettori, che erano poi i nostri elettori, era elezione politica. Lui li interessò, li bloccò, quasi, con la logica del suo ragionamento e parlò in maniera efficace della questione delle aree interne, delle aree marginali, della necessità di dare respiro a quella politica territoriale alla quale ha fatto riferimento il dottore Carpino e che era stata poi una chiave di lettura abbastanza evidente del suo impegno l'amministratore provinciale della provincia di Cosenza. Io, in quell'occasione, dissi a lui che forse c'era poi nella prosecuzione conviviale diciamo della serata pubblica e dissi dico franco ma guarda si parla tanto di questo territorio per esempio ti pare possibile che i nostri ragazzi debbano andare a Cosenza o a Rossano per poter proseguire gli studi dopo la terza media? C'era già la terza media chiaramente e uscì fuori una proposta e dice perché non facciamo una sezione dell'istituto professionale di Stato? Lui sorrise poi dopo un po' di discussione di vario genere quindi riprese la parola e disse questo è un impegno che spero di poter onorare io intanto assumo l'impegno Franco onorò quell'impegno dopo poco tempo venne istituito la sezione dell'istituto tecnico industriale professionale di Campana guarda io penso di ricordare ricordi di ricordi o meglio qualcosa qualche immagine effettivamente qualche flash ce l'ho di questo uomo molto amato ricordo le visite casa nostra era veramente aperta a tutti era sempre circondato questo lo ricordo perché non riuscivo neanche ad andare a dormire la sera questo me lo racconta mamma ma lo ricordo chiaramente perché a casa nostra tutte le sere c'erano amici c'era gente e quello che poi voglio dire che ha tenuto viva questa fiamma e questo ricordo continuo è stata la mia mamma sicuramente ma anche babbo che poi ha deciso di proseguire con noi questo cammino familiare ci ha condotto per ci ha portato all'età adulta ed è stato un testimone quotidianamente di questo amore grande che aveva nei confronti di questo uomo questa dedizione non mi ricordo non c'era giorno che non passasse che lui non ci ricordava la presenza di papà quello che papà era era stato nella sua vita e quello che aveva testimoniato anche con la sua malattia la vicenda poi di Letizia che qua mi preme ricordare perché purtroppo Letizia non aveva conosciuto papà e aveva avuto babbo come suo padre lo riconosceva come tale e che purtroppo poi dopo un breve periodo perché Letizia è vissuta solo 16 anni ci ha lasciato con lo stesso male ma anche lì anche lì noi vediamo e vogliamo vedere sia io mamma ma anche Giovanni veramente la forza della provvidenza la provvidenza che ci ha portato a vivere in maniera diversa questi drammi io parlavo con Ernesto prima di Natuzza e dicevo non lo so non lo so noi siamo convinti e crediamo nella comunione dei santi quindi io stasera sento qui presenti tutti i nostri cari come anche zio Riccardo che per noi è stata una presenza importante fondamentale direi e anche lui ci ha condotto lungo il cammino della crescita portandoci per mano come figli questo diciamo è stato per me il ricordo che papà ha lasciato nei suoi amici nelle persone che gli sono state a fianco nelle mie zie e mia nonna come non ricordarla quest'amore veramente trascendente direi quasi e forse questa è la testimonianza più importante che papà ci lascia che poi non è essere legati alla persona ma soprattutto l'amore che si lascia e che veramente non va non va perso e solo questo io penso penso rimanga